buongiorno buongiorno a tutti oggi sono qui in spiaggia per darvi una notizia molto molto importante cioè che non c'è il cut off dates perché hai ricevuto il test and go cosa vuol dire che se hai ricevuto l'approvazione del test and go e questo deve essere successo prima del 22 dicembre perché dopo non più dato non c'è una data di scadenza può arrivare quando vuoi l'ha pubblicato ieri sulla gazzetta reale e quindi è legge e legge non sono parole non sono notizie giornali è legge come se da noi avessi pubblicato qualcosa sulla gazzetta della repubblica italiana e legge non c'è scadenza non c'è il 10 non c'è il 15 per adesso per adesso puoi entrare quando vuoi il 18 il 20 il 30 e legge ripeto quindi state tranquilli almeno per il momento poi se questa settimana cambiano qualcosa questo non lo sappiamo ad oggi puoi entrare quando vuoi ok dopo 15 anche ciao a tutti e vi lascio con la nostra bellissima immagine come sempre